perché non sono stati curati adeguatamente. Ebbene, questa volta il Tribunale di Bari ha condannato il policlinico della città a un risarcimento piuttosto pesante, piuttosto importante per la morte di un uomo avvenuta nel 2011. Sentiamo. La mattina del 18 novembre del 2011 si svegliò con una violenta fitta al torace. Aveva le vertigini e dolore all'occhio destro. Così, un sessantenne di Motola in provincia di Taranto decise di andare al policlinico di Bari per farsi visitare. Qui venne prima sottoposto a una radiografia al torace, poi a un attack e i medici non trovarono nulla di sospetto. Venne comunque ricoverato e quattro giorni dopo, il 22 novembre, morì nel letto d'ospedale. Dalla perizia redatta dal medico legale e incaricato dal Tribunale Civile di Bari è emerso che il sessantenne stava subendo una dissezione ortica ed era in pericolo di vita. La sua orta, in pratica, presentava una progressiva lacerazione di una parete portando gravi squilibri emodinamici. I medici non individuarono e conseguentemente non curarono la patologia. Dopo il decesso, i familiari si sono rivolti a un gruppo specializzato in casi di malasanità e adesso il Tribunale Civile di Bari ha deciso che l'azienda ospedaliera barese dovrà pagare quasi 800 mila euro di risarcimento, oltre 390 mila euro alla vedova e 200 mila euro a ciascuno dei due figli. La gestione del paziente, ha accertato il Tribunale, non è stata adeguata né presso il pronto soccorso né nel reparto di neurologia dove l'uomo fu ricoverato sia per l'incompletezza degli accertamenti svolti sia per l'erronea lettura dell'Rx Torace. Tutte circostanze che hanno portato alla morte dell'uomo.